PAC, storia del mondo attraverso le portinerie. È bella questa portina, non lo posso dire. Corrimano. Predella del portiere. Va bene, sono un po' così, se non direte, hai preso. Incendi possibili. Antica Roma. Moderna Roma. Decorazioni. Il mare in città. Flora di ceramica. Finto marmo. Scale. Bullonato. Scava. Portiere assente. Buche. Storia del mondo attraverso le portinerie. PAC. Storia del mondo attraverso le portinerie. 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 Grazie a tutti.